Quali sono i numeri che caratterizzano il fenomeno dell'immigrazione che emergono dalla dossier statistico 2024? Allora, quest'anno siamo nuovamente di fronte ad un quadro di stabilità. Abbiamo quasi 26.000 residenti, cittadini stranieri, regolarmente residenti in regione, dei quali poco più di 14.000 sono quelli titolari di un permesso di soggiorno. Anche il quadro, andando a scavare un po' sulle presenze, sulla tipologia dei migranti presenti in regione, abbiamo anche lì un quadro sostanzialmente identico come negli anni passati, prevalentemente uomini, non coniugati, per la maggior parte titolari di un permesso di soggiorno a termine e collocati in una fascia di età intermedia tra i 30 e i 44 anni. In termini percentuali non ci sono maggiori arrivi rispetto agli scorsi anni, allo scorso anno? Per quanto riguarda gli arrivi, sicuramente non siamo di fronte a nessuna emergenza. Certo, c'è stato un lieveamento rispetto allo scorso anno sulla presenza dei richiedenti asilo in regione, ma come al solito parliamo di un numero, dobbiamo pensare che i richiedenti asilo in regione rappresentano l'1,9% di tutta la presenza nazionale dei richiedenti asilo. Ci sono dei territori di provenienza nuovi, inediti? Sicuramente ci sono delle novità sulle comunità presenti nella nostra regione, perché tra i cittadini non comunitari, quindi coloro che sono titolari di un permesso di soggiorno, la comunità più estesa, più grande, più presente sul nostro territorio è la comunità albanese. Quindi stiamo cambiando un po' il volto della migrazione. Negli anni passati soprattutto era l'area del Maghreb che ci interessava, che raggiunge un picco di oltre il 28% nel Materano. Successivamente ci troviamo la comunità ucraina, che invece si è stabilita a seguito degli eventi bellici, con una maggiore presenza nel Potentino e soltanto dopo abbiamo la comunità marocchina. Un dato interessante è la comunità giorgiana, che si è affacciata lo scorso anno per la prima volta con una piccolissima percentuale e quest'anno è in calo il dato, però nel Materano mantiene comunque un 4% di presenza. Quali sono le maggiori sfide che la Basilicata affronta nel gestire il flusso immigratorio? Le sfide sono tante, il problema è coglierle e portarle avanti con una programmazione mirata. Purtroppo le sfide vengono quasi sempre affrontate con l'affanno.